Benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le Idee. Oggi parliamo di deflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, il 2016 è stato il primo anno dal 1959 in cui l'Italia si è trovata in deflazione. Per la precisione, dello 0,1% rispetto all'anno precedente. Ma cosa significa deflazione? La deflazione è la diminuzione del livello generale dei prezzi di beni e servizi. Con la deflazione il valore della moneta aumenta. Con un euro si possono comprare più cose di quanto si poteva fare prima. Capita più spesso però di sentir parlare dell'opposto, cioè dell'inflazione, che consiste invece nell'aumento dei prezzi e quindi nella perdita di valore della moneta. A scuola abbiamo studiato l'iperinflazione che si verificò in Germania nel periodo tra le due guerre mondiali, quando dalla sera alla mattina i prezzi raddoppiavano o triplicavano. Qualcosa di simile sta accadendo oggi in Venezuela, dove i soldi invece di essere contati cominciano a essere pesati. Lo scenario di un'iperinflazione è sicuramente negativo, perché significa che la moneta non viene più considerata un mezzo sicuro per comprare e vendere le cose. Tuttavia, anche la deflazione può creare problemi. Intuitivamente, se i prezzi calano, potremmo pensare che sia un bene per l'economia, come lo è sicuramente per i nostri portafogli. Ma non è così. Oggi i prezzi scendono perché la gente fa meno acquisti a causa della crisi, o perché vuole risparmiare, essendo preoccupata per il proprio futuro. Siccome c'è meno domanda sul mercato, le imprese abbassano i prezzi per spingere i consumatori ad acquistare i loro beni e servizi. I consumatori, però, aspettandosi che i prezzi possano scendere ancora, potrebbero decidere di procrastinare le spese, almeno quelle più importanti. Questo non fa altro che ridurre ulteriormente la domanda e, di conseguenza, i prezzi, rischiando di innestare una spirale negativa di recessione e deflazione. Inoltre, le imprese, dal momento che vendono meno e i loro ricavi sono inferiori, tenderanno a ridurre i costi di produzione. Ciò significa che acquisteranno meno materie prime, faranno meno investimenti per migliorare e allargare la produzione, ma soprattutto assumeranno meno e ridurranno gli stipendi. Ma non è finita qui. Sul versante finanziario, se la moneta acquista valore con la deflazione, i debitori saranno penalizzati, dato che il debito rimane lo stesso, mentre il reddito a disposizione per ripagarlo si restringe. Per esempio, le famiglie con un mutuo si ritroveranno a farvi fronte con degli stipendi più bassi. La stessa cosa vale per il debitore più grande di tutti, lo Stato, che dovrà pagare gli interessi sul nostro enorme debito pubblico con minori entrate fiscali. Insomma, ci ritroviamo di fronte a un cane che si morde la coda. Più i prezzi si riducono, più l'economia va male. Più l'economia va male, più i prezzi si riducono. La politica monetaria è gestita dalle banche centrali, che godono di una certa autonomia rispetto ai governi e hanno il compito di controllare la quantità di moneta in circolazione. In caso di deflazione, ci si aspetta che la banca centrale immetta liquidità nel mercato finanziario stampando nuovo denaro. Una maggiore liquidità implica una perdita di valore della moneta e quindi più inflazione. Negli ultimi anni la BCE, la banca centrale europea, seguendo l'esempio di altre banche centrali del mondo, ha iniettato liquidità nel mercato. Anche se questo ha dato solo una spinta limitata alla crescita economica e all'inflazione. L'altro soggetto che può fare qualcosa contro la deflazione è il governo, con la doppia leva della politica fiscale, cioè abbassando la tassazione per favorire i consumi da parte delle famiglie, e dell'intervento diretto nell'economia, investendo denaro in settori chiave per dare lavoro a chi lo ha perso. Tuttavia lo Stato italiano è troppo indebitato per potersi permettere di spendere e spandere, quindi può fare poco. Abbiamo parlato delle gravi conseguenze che la deflazione può scatenare e di come le armi dello Stato per combatterla siano spuntate. Dobbiamo quindi strapparci i capelli? Non ancora. È vero che la nostra economia è ferma ormai da qualche anno, però, come abbiamo detto, la deflazione registrata nel 2016 è molto bassa. 0,1%. Peraltro ciò è dovuto principalmente al prezzo del petrolio, il cui calo ha abbassato tutta la media. Per il prossimo futuro è previsto un ritorno dell'inflazione, seppur di pochi decimali. Gli economisti considerano ottimale un'inflazione vicina ma inferiore al 2%. Se questo obiettivo non sarà presto raggiunto e l'economia continuerà a sperimentare una bassa crescita e una bassa inflazione per molto tempo, allora sarà il caso di iniziare a preoccuparsi seriamente. Per oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Muovete le idee! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams.